Il sale e lo zucchero In un paese lontano viveva un re con le sue tre figlie. Dopo la morte della regina il re era diventato triste e pensava che più nessuno gli volesse bene. Così un giorno chiese a ognuna delle sue figlie «Quanto mi vuoi bene?» «Ti voglio bene come il sole e la luna messi insieme» rispose la prima. Il padre la benedisse per il suo amore. «Ti voglio bene come l'oro e l'argento di tutto il mondo» disse la seconda. Il padre l'abbracciò con affetto. «Ti voglio bene come il sale e lo zucchero» rispose Smeralda che era la più piccola. A quelle parole il re si arrabbiò ed esclamò «Allora non mi vuoi bene figlia ingrata!» La bambina si mise a piangere e per il dolore abbandonò la sua casa e si incamminò tutta sola verso l'ignoto. Camminò e camminò per giorni e giorni finché raggiunse la casa di un pastore. Gli raccontò la sua storia e il pastore l'accolse come una figlia. Le insegnò a occuparsi della casa, ad accudire gli animali e a preparare una torta squisita con una ricetta segreta. Era un dolce speciale che faceva sentire chi lo mangiava subito di buon umore e pieno di allegria. Smeralda imparò moltissime cose, diventò grande e un giorno decise che era arrivato il momento di andare a vedere come era fatto il mondo. Il pastore la salutò con affetto e le diede un consiglio. «Vai pure in città, ma stai molto attenta! Vestiti da ragazzo, così sarà più facile per te trovare un lavoro!» La ragazza arrivò in città e bussò a ogni casa. Arrivo infine al palazzo del re del luogo, dove le offrirono di occuparsi gli animali e di vivere accanto alla stalla. Cominciò la sua nuova vita. Ogni giorno si vestiva da ragazzo e accudiva i cavalli, i cani, i piccoli lama e gli altri animali. La sera, quando nessuno la vedeva, metteva i suoi abiti da ragazza e talvolta preparava la sua torta speciale e così ritrovava un po' d'allegria. Un giorno il figlio del re decise di andare a conoscere tutti i suoi servi. Alla fine del giro arrivò vicino alla stalla. Quale fu la sua sorpresa nel vedere una bellissima fanciulla che mangiava una torta tutta sola? Anche la ragazza vide il principe e, per paura di perdere il lavoro, fuggì via. Il principe cercò di seguirla, entrò in casa e assaggiò un pezzo del dolce rimasto. A quel giorno non riuscì a pensare ad altro che alla bellezza della ragazza e alla sua torta squisita. Così divenne sempre più triste e si ammalò. Il re e la regina, disperati, invitarono tutte le ragazze il regno a portare una torta al principe, sperando di ritrovare la misteriosa fanciulla. Ma nessuna torta assomigliava a quella della ragazza che il principe aveva visto vicino alla stalla. Anche Esmeralda sentì la notizia della malattia del principe. Si fece coraggio e andò a palazzo con il dolce speciale. I due giovani si riconobbero subito, si confessarono il loro amore e decisero di sposarsi di lì a poco. Esmeralda raccontò al principe tutta la sua storia e insieme decisero di dare una lezione al padre che l'aveva costretto a fuggire da casa anni prima. Tutti i re e le regine furono invitati alla festa di nozze e fra questi anche il padre di Esmeralda con le sue sorelle. La ragazza ordinò di non mettere nel cibo servito suo padre e alle sorelle né il sale né lo zucchero. La festa fu bellissima, il banchetto straordinario. Solo suo padre e le sorelle si lamentavano. Peccato, non siamo riusciti a mangiare niente. Tutto era senza sapore. Forse qualcuno si è dimenticato di mettere il sale e lo zucchero. Hai capito allora perché un giorno ti ho detto che ti volevo bene come il sale e lo zucchero? Disse Esmeralda a suo padre. Questi riconobbe allora la figlia. L'abbracciò. Le chiese perdono. Da quel momento vissero insieme felici e contenti. Deve tutte leしか sp interessi senza svegli žeassen. Ciao. Hope a tutti. Ciaoётся. Ciao. 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 Grazie a tutti.